parliamo del problema della pronta disponibilità è possibile che si verifichino degli abusi e in questo caso cosa si può fare per tutelarsi si salve allora sì effettivamente gli abusi della pronta disponibilità esistono considerato il fatto che a livello contrattuale almeno fino ad oggi sono previste sei reperibilità nell'arco di un mese consideriamo che molte sentenze quindi molte situazioni arrivano anche a superare le 10 le 11 reperibilità nell'arco di un mese quindi sicuramente si può parlare di abusi tuttavia alcune sentenze hanno però dato ragione alle aziende sanitarie quindi più in generale alle strutture sanitarie proprio perché non vi è un limite invalicabile delle sei pronte disponibilità considerato il fatto che vi è di mezzo la salute degli utenti spesso si può abusare di questi usi allora per quanto riguarda che cosa fare beh sicuramente una buona idea potrebbe essere creare uno strumento grazie al quale andare a misurare la complessità assistenziale quindi l'intensità di cura dei propri utenti strumento che poi può servire al coordinatore infermieristico ovvero al dirigente delle professioni sanitarie a dimostrare che in quel contesto lavorativo è necessario assumere del personale anche a tempo e il problema esiste da diverso tempo immagino però si è acuito negli ultimi anni in particolare con la pandemia sì sicuramente si è acuito nonostante questo le sentenze che abbiamo avuto modo di affrontare che abbiamo diciamo delle quali abbiamo parlato anche durante il webinar ci parlano di testimonianze che risalgono al 2000 che sono arrivati addirittura del 2002 al 2010 quindi sicuramente è un abuso che va pre pandemia rispetto alla pandemia senz'altro nelle prime fasi è stato necessario ricorrere alla pronta disponibilità ma addirittura al lavoro straordinario perché a volte non era sufficiente la pronta disponibilità era proprio necessario presidiare le unità operative e stare sul posto nonostante questo però grazie alle assunzioni che sono state fatte all'interno della fase pandemica in alcune realtà la situazione è andata via via migliorando quindi potrebbe essere una buona idea mantenere l'organico attualmente presente con la pandemia anche dopo aver completamente superato la fase pandemica